Più degli annunci, tagli ufficiali, comunicati stampa sono le immagini delle ruspe che scavano a parlare chiaro e ad annunciare più di ogni altra cosa che i lavori per l'ampliamento dell'aeroporto di Salerno e il cantiere per l'allungamento della pista sono questa volta effettivamente stati avviati. Ad annunciarlo ieri con un post e tanto di foto di ruspe era stato il presidente della commissione regionale trasporti Luca Cascone dieci giorni dopo la conferenza stampa nella quale era stato indicato come avvio concreto il 30 luglio anche con un pizzico di orgoglio il presidente della commissione trasporti ha mostrato che si è addirittura giocato di anticipo. Finalmente oggi possiamo dire ha dichiarato Cascone che i lavori sono partiti e possiamo mostrarne le prime foto ma questo è l'inizio questo risultato è stato possibile ha ricordato il presidente della commissione trasporti grazie alla capacità e all'efficienza manageriale della Gesac e alla grande caparbietà del presidente Vincenzo De Luca un vero risultato di squadra. Ma commenti positivi ed entusiastici si sono giunti anche dal fronte sindacale questa volta si decolla scritto Gerardo Arpino segretario provinciale della Filt CGL adesso però è il momento di progettare il futuro lavorativo di un intero territorio sud della città di Salerno ha ricordato il rappresentante sindacale annunciando che chiederà uno sforzo affinché i comuni limitrofi arrivino preparati al completamento dell'aeroporto e delle opere annesse per presentare la migliore offerta lavorativa alle migliaia di giovani che sicuramente saranno impiegati nell'indotto ad accogliere milioni di turisti in strutture ricettive all'altezza della tecnologica infrastruttura che sta per nascere.